ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi mercoledì proprio come accaduto settimana scorsa per la sb ciro in teoria dovrebbe essere previsto il rilascio della sb c icon con over al massimo 87 quindi oggi cosa andiamo a fare ci andiamo a vedere insieme quali sono tutte le possibili icon che sarà possibile trovare all'interno della sfida e se dunque ha senso andarla a sbloccare o meno partiamo subito col primo giocatore che sarà possibile trovare all'interno della sfida e sto parlando di fernando torres un attaccante che anche quest'anno si rivela abbastanza completo è un 4 4 un metro 86 quello che più ovviamente ci interessa è il play style plus del tiro a giro che attualmente è uno dei più forti arriverà poi un video dedicato su quelli che sono i play style secondo me migliori al momento su fc 25 vi può fare solo la tt però ha dei ruoli molto interessanti visto che ha il rapace plus plus quindi sicuramente il buon fernando torres potremmo considerarlo una win all'interno della nostra sfida icon qualora dovesse venire fuori stesso discorso purtroppo non si può fare per ian bright un giocatore di un metro e 75 con sole 3 skill 4 di piede debole che anche lui può fare solo la tt quindi molto limitato per quelle che sono le nostre ibride un giocatore con una scarsa aggressività o poca forza quindi abbastanza bullizzato da quelli che sono difensori avversari e per quanto riguarda i ruoli anche lui ha un rapace plus plus con però il play style plus del pallonetto che in un gioco dove finalmente i pallonetti funzionano onestamente lui non sarebbe proprio il giocatore ideale da andare a pescare così come giocatore ideale da andare a pescare non sarebbe questo klyvert che comunque tuttavia è un 4 4 di un metro 88 può fare anche lui solo la tt quindi è un giocatore abbastanza fisico ad andare via in velocità tanto sappiamo che al momento non ci va via in velocità nessuno però comunque dato di una discreta velocità play style plus del power header quindi del colpo di testa un po più forte ma per il resto anche lui attaccante avanzato plus plus il rapace plus non mi sembra una grossa win trovare questo klyvert così come il buon burns invece già potrebbe essere leggermente meglio visto che un 4 4 di un metro 82 veloce al play style plus del tecnico può fare diversi ruoli perché può giocare a ss anche trequartista come attributi qui abbiamo una buona finalizzazione un buon passaggio corto pecca un po nel lungo ma quello che ci può interessare è il ruolo di ala plus plus come come attaccante sinistro che potrebbero rendere questo barnes quantomeno utilizzabile all'interno di quelle che sono le nostre le nostre squadre un altro giocatore molto carino è questo pires perché anche lui può fare diversi ruoli può giocare a sinistra a destra può fare il trequartista è un giocatore 4 4 quindi molto bilanciato che ha una discreta velocità dei buoni passaggi ma soprattutto anche lui ha il tiro a giro plus che è una meccanica molto comoda in più anche il tecnico bianco il razzetto e come ruoli ha il regista largo plus plus e da trequartista anche l'attaccante ombra plus quindi direi discretamente bene ferdinand meno bene sciabialonzo che è una carta abbastanza average per quello che il mio modo di vedere può giocare cdc cc l'unica cosa che potrebbe magari far venire i qualche voglia di provarlo è il play style plus del lancio lungo come c'è un po la guiarro come c'è a bruno fernandes quei giocatori là che è veramente forte però poca roba questo sciabialonzo così come pochissima roba questo lampardo nonostante il play style plus del power shot che anche qua molto forte può fare cc cdc e trequartista ma lui onestamente se ci viene fuori non è veramente niente di che rai card anche qua non un giocatore indimenticabile che però paradossalmente vista la sua versatilità che può giocare anche da difensore centrale potrebbe essere un'idea magari qualora qualcuno di voi stia utilizzando delle difese a 5 non lo andrei a buttare via la problematica primaria di questo rai card secondo me il 75 di aggressività perché poi comunque c'ha degli ottimi play style tra tutti l'intercetto plus e il procione e il blocco bianco andando avanti sempre in termini di centrocampisti ovviamente pt può essere un ottimo centrocampista assolutamente non da usare terzino visto che è lento frasico però è un giocatore che comunque 88 di aggressività una buona forza dei buoni passaggi e come play style ha praticamente intercetto e procione bianco una batteria che gli permette una maggiore durata nell'arco dei 90 minuti vidic pure carino non indimenticabile perché non è un difensore super veloce ma al momento i difensori corrono più degli attaccanti play style plus della scivolata che ci piace meno però ruolo stop per plus plus per quelli che magari sono abituati a difendere un po più alto questo vidic potrebbe tornare al caso vostro male il nostro amico ian rush dal galles 3 4 1 80 fa solo la tt come ruolo plus plus è rapace ma è una carta veramente che non mi dice nulla come play style plus alla calamita quindi direi da schippare cosa che invece non farei con zola perché zola è un bel giocatorino e 4 4 un metro e 68 c'è il tiro a giro può fare c o c att è velocino è agile nello stretto ripeto oltre a quello c'è anche il tecnico e la trivela che comunque fanno il loro e soprattutto all'attaccante ombra plus plus da trequartista che è uno dei ruoli migliori ma che le le per lo stesso discorso di petì anche lui non male blocco plus può fare anche le d e il cc oltre al cdc è un giocatore veloce bella l'aggressività 87 e come ruolo qui abbiamo il centrocampista di contenimento plus plus da mediano che è tanta roba meno bene suker nonostante sia comunque un 4 4 c'è il play style plus della trivela però pure lui può fare solamente la tt e come altri play style ha giusto il tecnico bianco l'attaccante avanzato plus plus come ruolo direi abbastanza bene questo qua magari un mezzo tra gli si potrebbe dare però diciamo che non è un un giocatore così così forte stesso discorso per kin che proprio skiperei a più e pari cosa che invece non farei col sol campbell perché un è un bel difensore bello forte fisicamente peccato anche lui il play style plus della scivolata però abbiamo almeno un blocco bianco e questo caso invece abbiamo il ruolo plus plus del difensore quindi per quelli che amano difendere un po più bassi qui entriamo nell'elite secondo me perché zambrotte uno ovviamente delle pic migliori lo è da sempre all'interno di queste sfide icon cappate con overall 4 skill 5 di piede debole un metro 81 insomma un giocatore che può giocare sia terzino destro che sinistro quindi straversatile veloce dei buoni passaggi aggressivo buone le stats difensive come ruolo c'è il tornante plus plus a destra il plus a sinistra e in più ha anche il blocco bianco e la batteria plus che quindi lo aiutano in questo ruolo di metronomo no di pendolino sulla fascia lì dove lo andiamo a schierare però nella bruchita purtroppo non è un giocatore utilizzabile così come non lo è larson l'angelo biondo il buon hernandez può fare anche lui solo la tt però almeno un giocatore abbastanza veloce una buona finalizzazione ha il rapido la trivela bianchi oltre al playstyle plus della calamita e può farvi da rapace plus plus questo qua magari un try glielo date così come un try si può dare anche a crespo che è un 4 4 quindi un giocatore che comunque si può mettere in campo non è stra veloce però ha una buona finalizzazione anche lui non ha sti gran playstyle ha il tiro a giro bianco che comunque schifo non fa però tolto questo non c'è un granché e poi come ruoli anche lui rapace plus plus e torre plus quindi anche crespo secondo me un try lo può avere così come un buon terzino oltre a zambrotta può essere questo acili call lì a sinistra perché è molto rapido si si muove bene con le due plus come playstyle al blocco bianco e in più lui vi fa il terzino plus plus che è lo stesso ruolo che ha con te che tanta roba gattuso gli mando un abbraccio virtuale a distanza ma niente di che mentre invece tutto il contrario per questo michael estien che tuttora rimane uno dei migliori mediani secondo me una delle migliori opzioni se noi vogliamo andare a completare questa questa sfida è un giocatore abbastanza grosso perché quasi un metro 80 cdc cc come posizioni stili di gioco l2 plus con il procione bianco che comunque in mezzo al campo fanno e loro centrocampista di contenimento plus plus come cdc lo aiutano ad essere onnipresente praticamente quando si tratta di dover difendere quindi se noi vogliamo andare a fare un recapino diciamo che quelle che sono secondo me le icone d'elite quelle per le quali veramente può valere questa spesa sono essien zambrotta pires e zola e torres di cui vi parlavo in precedenza se andiamo a calcolare invece quelle che sono le utilizzabili vi dicevo in precedenza abbiamo torres abbiamo barnes se vogliamo abbiamo appunto lo stesso pires possiamo mettere rai card e pt con vidic zola ma che le le suger ce lo buttiamo dentro campbell zambrotta essien e col con crespo ed hernandez leggermente dietro quindi a fronte di un 24 icone se ho fatto bene i calcoli ne abbiamo circa 11 12 che possono valere la pena quindi la metà io mi aspetto ovviamente che questa sfida non sia per niente economica e seppure voi dite sino la pago per la divertimento di farla calcolate che state pur sempre buttando dei fodder che avreste potuto impegnare in un'altra maniera quindi diciamo che secondo me per quelle che sono le alternative a queste carte attualmente sul mercato io mi sento di sconsigliarvela ragazzi anche per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti se siete molto interessati a questa sfida o meno se siete dunque gasati dalla sua uscita o magari vi interessa più per altri motivi tipo la compravendita io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto a voi si berowski e presto ciao